Musica Penso che questo sia un progetto straordinariamente importante per il nostro territorio, tanto perché parte quest'opportunità del convitto che dà quindi la possibilità ai ragazzi di fermarsi ad alloggiare per l'intera settimana e di poter frequentare la scuola di Bedogno e la scuola di Borgotaro. Secondo perché le due scuole offrono quest'anno un'ulteriore nuova opportunità sia l'agrario che il commerciale e mettono quindi in condizione a tutti i nostri ragazzi ma anche i ragazzi dei territori vicini di poter avere l'opportunità di frequentare nuove scuole, scuole più vicine al mondo dell'economia, più vicine al mondo dell'impresa. Quindi riconfermiamo che nei nostri due plessi, quindi la scelta giusta che le amministrazioni fecero di mettere insieme in un unico istituto comprensivo stanno dando un'offerta complessiva di straordinaria grande importanza. Su questo la Regione ci vuole essere, vogliamo dare il nostro contributo, vogliamo essere vicini a questo territorio ma vogliamo far sì che l'offerta di questo territorio vada oltre i confini regionali e provinciali per prendere anche i ragazzi dei comuni vicini a noi e dargli questa opportunità. Grazie a tutti i nostri ragazzi